creduto molto in questo format, al punto che per la 41esima edizione, quindi per l'edizione di quest'anno che ci vede assieme protagonisti, abbiamo stretto un vero e proprio protocollo d'intesa, quindi vetrina ufficiale del festival, la nostra mascotte mucotto per il festival, ma abbiamo un vero e proprio spazio del mucco pallino village, del Gifoni Experience, e quindi abbiamo la possibilità di fare dei laboratori, ovviamente voi sarete la colonna sonora di tutte le giornate del festival del nostro villaggio, e abbiamo sicuramente la possibilità di conoscere meglio questi che sono i giurati, i giovani, e poi sono il nostro pubblico di riferimento. Ecco, ma io mi ricordo Maria Carla che l'anno scorso, cioè impazzita con 200 foglie, punti ovunque, perdeva foglietti, Maria Carla hai perso un foglio! Sì, assolutamente, in mezzo alle carte praticamente io viaggiavo, no, Gifoni è una bellissima esperienza, ma c'è da lavorare tanto naturalmente, noi in quanto vetrina ufficiale del festival facciamo tanto, tanto, tanto e anche di più, per questo ci impegniamo molto, lavoriamo l'intera giornata lì al festival, ma alla fine la soddisfazione è immensa, perché lavorare con i ragazzi a stretto contatto è assolutamente fantastico. Allora, io ho trovato questa cosa su darionuzzo.com, mi sembra, dare forma alle idee, questo è il mio mestiere e la mia passione, connubio perfetto per la giusta realizzazione nella vita. Il motore che muove tutto è la convinzione di dover concretizzare i sogni e come un prestigiatore da vita alle illusioni, così un'idea maker può dar vita ai propri sogni e ai sogni altrui. Dario, non so, te l'ho letta malissimo, ma insomma rende l'idea. Eh sì, spero che renda l'idea, vedi, abbiamo iniziato prima parlando di giochi di prestigio, se vuoi oggi la city di Mucco Pallino, cioè il sito di Mucco Pallino, www.muccopallino.com, che è poi la città virtuale di questo format, è un vero e proprio gioco di prestigio, è un po' un'illusione, un'illusione che piano piano sta diventando realtà, ma fatta da un sogno. Allora, come potete vedere dal nostro tavolo, ci hanno colorato lo studio di cose molto belle, perché Mucco Pallino in realtà è un laboratorio vero di idee, di progetti, di cose interessanti, di cultura, di spettacolo, di informazione, è insomma di cultura, ecco. Abbiamo addirittura quest'anno avuto il piacere di avere una tesi in parte dedicata a Mucco Pallino, cioè Giovanna che praticamente ha dedicato una sezione della sua tesi a quello che è il nostro format, il format di Dario Mucco Pallino, è una grandissima soddisfazione, Mucco sei laureato Andrea. Ecco, benissimo, no ma non solo questo, poi insomma vedo che, insomma, la centrale della te l'abbiamo citata prima, il cuscino, ragazzi, ma veramente, questo è bello davvero, cioè questo dormire col cuscino di Mucco Pallino non ha prezzo, e poi insomma tra luce, ecco, non l'avevo notato, ecco, ma guarda abbiamo degli slogan che sono divertentissimi, sulla tazza ovviamente, ce l'hai messo tu lo zucchero, sembra evidente, ma in realtà Mucco Pallino poi è una cornice per dei contenuti importanti, perché molti partner della trasmissione sono enti di istituzioni molto seriose, immagina l'agenzia delle entrate, l'unice, insomma il miurra, il moige, ecco tu questa è appena preso un anno di zapping, è la guida appunto che il moige di anno in anno fa, è in realtà un'analisi critica di quelli che sono i prodotti televisivi e abbiamo il piacere di di averli con noi a Giffoni e di essere stati giudicati positivamente da loro proprio da loro, ma che bello, ovviamente italiano genitore ma come nasce l'idea Dario, insomma io prima, perché, no, perché io sono partito lì, volevo chiedertelo, me l'avevo anche scritto, guarda come nasce l'idea ma mi è sfuggito perché insomma mi sono lasciato prendere dal racconto, dalle cose insomma dal vostro modo di fare, dalla vostra energia che ancora si percepisce a distanza di molto tempo, come nasce l'idea? Il nome, il nome mucco pallino, ti racconto l'aneddoto di come nasce perché è divertente, in realtà mamma fa l'insegnante e io andai a trovare, faceva la maestra elementare sulle medie, ma chi se ne frega, tutti adesso ci stavano domandando, però quando era all'elementare andai a trovare mamma a scuola e un bambino candidamente le andò vicino e le disse ma è un falzoletto che ho un mucco pallino che mi colla per il naso, ora l'hai detto tu, io ti ho raccontato una storia, in realtà nasce proprio così, nasce veramente così, è troppo bello, poi si è evoluto ed è comunque resta un po' appiccicaticcio, vedi che si accroppa praticamente dappertutto, anche perché il suo macchio è uno stencil, ma è diventato il maschietto della mucca, nasce così come mucco ecco un po' come lo stercolaro di Aldo Gianni già, non so per intenderci, ragazzi io sono in chiusura, vi ringrazio per essere stati con noi, sono davvero contento, felice di aver potuto fare con voi questa chiacchierata, però devo chiedervi in chiusura, com'è fare televisione partendo da Salerno, nel vostro caso poi insomma per fortuna avete aperto nuovi i risulti, ma com'è fare tv a Salerno? Difficile, difficile, davvero difficile, difficile e complicato, perché purtroppo la televisione prevede una serie di figure professionali importanti, è come un po' un puzzle, se ogni tassello ha il giusto valore, alla fine il quadro sarà bello, basta che qualche tassello sia un po' fuori fuoco, alla fine tu percepisci il prodotto come non bello, non sai nemmeno il perché, quindi va curato davvero il dettaglio e tutte le persone che danno il loro contributo, quotidianamente, hanno un loro peso specifico per il prodotto in sé. Dario, io in realtà ho un appello, sai che noi andiamo in onda sulla stessa emittente al Salerno, sulla Liga TV e... Però io non lo potevo dire nella mia trascensione, te l'ho detto, io cerco fidanzato, perché come vuoi fare. Cerca fidanzato, Dario, ogni tanto ricordiamolo. No, però mi va di dire, spesso però si fa un po' la guerra dei poveri, cioè anche tra noi per esempio la radio, nel mondo nel quale sono nato, cioè a volte, cioè anche tra le radio concorrenti, cioè si fa una cosa veramente, cioè... La guerra dei poveri, la guerra dei poveri, la guerra dei bottoni, la guerra dei poveri. Noi abbiamo la fortuna, credo come emittente, credo come programma di divertirci e quindi abbiamo la possibilità di svolgere quotidianamente il nostro lavoro con il sorriso ben stampato. Eh sì, bene. Signori, in Casa Volpe, onore e piacere di aver avuto lo staff di Mucco Pallino, Maria Carla Ciancio e Dario Nuzio. Grazie a te, grazie a te. Grazie davvero. Prendimi, prova a prendermi, a bruciare le mie partenze adesso. Tutto K, tutto K, grande Marzia. sono diversità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti